Nei giorni scorsi è stato firmato un protocollo d'intesa tra Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta presieduta da Nicolo Piave e l'Associazione Unione Panificatori presieduta da Antonio Amico. Le organizzazioni hanno sottoscritto la reciproca volontà di realizzare un progetto finalizzato alla diminuzione dello spreco alimentare attraverso il recupero e la donazione di prodotti alimentari. Ne abbiamo parlato con il Presidente dell'Associazione Unione Panificatori, Antonio Amico. L'iniziativa in poche parole è nata grazie al Presidente Nicolo Piave della Croce Rossa che mi ha contattato per presentarmi questo protocollo d'intesa. Questo protocollo d'intesa cosa prevede? Prevede che ci sarà un calentario dove noi colleghi panificatori doneremo dei beni di prima necessità che produciamo per poterle donare alle famiglie bisognose. Anche negli altri anni l'abbiamo fatto, però era in maniera diversa. In che senso? Prima si donava il pane inventuto, quindi molto spesso capitava che la Croce Rossa veniva nelle nostre attività e non trovava nessun prodotto da poter donare a queste famiglie. Invece così, facendo un calentario e a rotazione, ognuno di noi potrà donare e possiamo garantire il pasto a ogni singola famiglia. E mi auguro che anche altri colleghi o altre attività di prima necessità ci vengano incontro a questa iniziativa.